buongiorno benvenuti a questa zuppa di poro del 4 maggio 2019 ci sono un sacco di cose da commentare oggi sui giornali adesso mi metto un po più un po più di traverso così siete tutti contenti ci sono un sacco di cose da commentare sui giornali e lo faremo intanto la sfida finale su siri obiettivamente io non posso credere che questo governo che ne ha passato di tutti i colori possa cadere per un sottosegretario trasporti però i giornali sono su questo tono addirittura la stampa è quella che si porta più avanti di tutti rispetto agli altri infatti dice secondo un retrosceno della stampa buongiorno alessandro rita che siete in collegamento dici se siri non si dimette sono pronto a dimettermi dice conte questo è un retrosceno della stampa che è tutto da vedere vedremo se nelle prossime ore anzi dovrebbe essere secondo il retroscena martedì o mercoledì in redelazione prima però ci sarà questa specie di vietnam di dichiarazioni la procedura del revoca del sottosegretario la spiega è un pezzo lunghissimo però per una volta piuttosto interessante nel fondo dell'avvenire quando l'avvenire fa il giornale e non il giornale inteso in da informazioni e non sembra il manifesto dei cattolici manifesto inteso di partito come quotidiano il partito comunista è anche interessante il querenale si prepara ad elezioni a settembre dicono alcuni retrosceni io anche su questo non ci posso credere di maio in consiglio di dei ministri abbiamo una maggioranza in effetti ci sono otto ministri del momento 5 stelle 6 ministri della lega anche se alcuni retroscena dicono che quel consiglio dei ministri che sarà tra martedì e mercoledì vedrà la partecipazione ridotta dei ministri della lega di modo che non si crei proprio plasticamente una frattura all'interno del consiglio dei ministri anche se come dice chiaramente il pezzo dell'avvenire e come dicevano anche altri retrosceni del passato in realtà rispetto ai tre sottosegretari dimissionati del passato in questo caso la coalizione non reggerebbe lì poi ci sono due invece fattori che farebbero pensare quello che io non credo cioè che il governo potrebbe cadere i due fattori sono i seguenti il primo è che come dice bene oggi pagnoncelli sei leghisti su dieci secondo i sondaggi sarebbero contrari sono convinti che il governo cada dentro alla fine dell'anno e poi a parte pagnoncelli c'è un altro elemento significativo e cioè ritorna di ba di battista per fortuna che c'è di battista dice che se dovesse andarsi si dovesse andare al voto dopo le elezioni europee beh lui ci sarebbe si candiderebbe si sarà scocciato di fare i viaggi in india e in america pagato dal fatto quotidiano ma riconosce che il capo resta di maio ma di maio non ha fatto due mandati non lo so insomma questi sono i grandi mistieri gaudiosi del movimento 5 stelle nel frattempo lezioni ci sono state quelle municipali inglesi se ne occupa il foglio e il daily mail oggi sono i due giornali che conviene leggere ve la faccio molto breve un disastro totale per i conservatori che non perdono mi sembra 790 assessorati ma anche molto male i laboristi di corbin quindi non vanno bene i due partiti tradizionali guadagnano i liberali i verdi e gli indipendentisti l'altra grande questione di giornata è questi g e il titolo più bello quello del manifesto manifesto vero non l'avvenire sbolognato sostanzialmente i giudici di bologna e prima di loro quelli di firenze come ricorda morizio belpietro oggi sulla verità decidono di iscrivere all'anagrafe anche richiedenti asilo cosa che il decreto sicurezza di salvini non prevede è il solito diciamo scontro tra magistrati e politica che è avvenuto praticamente negli ultimi non so 40 50 anni di questa storia ma anche anche di più forse qualcuno oggi forse sallusti evocava quella frase togliatti che non so se fosse veramente togliatti ma se lo dice sallusti così è che le leggi per gli amici si interpretano e per i nemici invece si applicano e questo varrebbe sui giudici diciamo di bologna differenze che sono chiaramente di magistratura democratica e che non vedono di buon occhio la politica di immigrazione adottata da salvini e ovviamente questo sarà un grande tema di giornata autostrade io sapete che sono affezionato a tutta questa specie di grande telenovela su all'italia dove va non va due cose succedono tutti i giornali ricordano che viene rinviato al 15 giugno il mestiere dei commissari c'è sempre una proroga della proroga della proroga finché non trovi un socio perché non trovano un nuovo socio manca almeno il 15 per cento il capitale dell'italia che per il resto tutto il resto è diciamo più o meno del pubblico tranne un 15 per cento di delta che ha tutto il suo interesse di mantenere come si dice il pacchetto in all'italia per il traffico tra america e stati uniti di italiani che verrebbero veicolati quindi su delta ma a parte lei c'è bisogno di un socio forte industriale italiano beh uno di questi soci potrebbe essere autostrade e oggi il fatto dice che c'è l'orrendo scambio tra partecipazioni di autostrade in all'italia e possibilità di sbloccare la gronda di genova il solo pensiero che si debba sbloccare la gronda di genova mi fa impazzire posto che quello è un'opera pubblica che servirebbe da 50 anni che siamo ancora qua a traccheggiare a proposito di opere pubbliche lo sblocca cantieri titolo oggi del sole 24 ore non serve a nulla perché per il semplice motivo che vai non va in vigore fra sei mesi ci vorrà un anno per nominare commissari straordinari e soprattutto dice una cosa che io non sapevo la faccio semplice cari amici che ci ascoltate lo sblocca cantieri serve a sbloccare i cantieri ovviamente ma il vero problema secondo quello che scrivono gli esperti sono le norme per autorizzare il cantiere otto anni per autorizzare un cantiere in questo paese voi capite bene che si può sbloccare il cantiere ma per sempre autorizzarlo ci vogliono otto anni diciamo che passiamo da dieci anni cinque anni per fare un cantiere ci mettiamo 13 ma sono stato ottimista quindi il vero tema che non si è sbloccato nulla nelle procedure autorizzative nel frattempo trump sempre sulle 24 ore investirà 2000 miliardi di dollari nelle infrastrutture americane 2000 miliardi di dollari e qua è un'altra grande differenza mentre quello nella campagna elettorale gli fa il reddito di cittadinanza e quota 100 quell'altro invece nella campagna elettorale nell'ultimo anno che cosa fa è proprio l'idea completamente giusta degli americani e dei repubblicani cosa fa infrastrutture riduzione di tasse così probabilmente sono arrivati al minimo storico della disoccupazione al 3,6 per cento in america il minimo dal 1969 anno della mia nascita insomma non è stata mai così buona la disoccupazione in america l'occupazione in america alla faccia dei gufi di trump che sarebbe stato il disastro totale beh ma è molto meglio lui di obama e della dinastia clinton intanto repubblica fa un titolo maverick come vale ora per verdelli e cioè l'europa pronta la stangata che si tratterebbe di un documento che probabilmente la commissione europea farà martedì sui conti pubblici italiani la stangata in realtà non la fa lei ma sarebbe lo schiaffetto dell'europa guido tabellini fa un pezzo bellissimo per gli intenditori sul foglio quindi leggetevelo un tempo la contrapposizione era tra capitale e lavoro e quindi si è sempre letta la politica tra destra e sinistra in questa contrapposizione i capitalisti da una parte gli operai proletari dall'altra oggi potrà apparire banale ma il pezzo di tabellini non lo è la contrapposizione è tra globalizzati e tecnologici e non globalizzati e non tecnologici tra urbani dove c'è tutti i vantaggi della globalizzazione della tecnologia e provinciali insomma il cambio è completamente trasversale alle tradizionali divisioni tra destra e sinistra lo dice un economista che parla bene che conosce bene le cose in modo molto comprensibile oggi sul foglio chi ha tempo se lo legga il popolo americano non è mica scemo se ne frega della diga chic dice susanna beh vai a vivere un po new york e forse qualche idea in merito ce l'hai e vi consiglio di leggere andate sul mio sito a leggere varanelli c'è un bottone sottospitico scritto varanelli è andata a leggere quello che dice varanelli della incapacità totale di alcuni americani di ragionare ultime due cose che mi ci porta varanelli sono il salone del libro del torino dove è una cosa incredibile l'ho già fatta e lo vedrete sul mio sito ieri perché ne ho parlato con la borgonzoni i organizzatori del salone del libro del torino con questa minchiata ideologica dell'antifascismo perché non è di per sé una minchiata ma è minchiata e da minchioni come l'applicano loro beh loro applicano il loro antifascismo per non far arrivare al salone del libro i loro diciamo non accoliti quindi per loro giuli giubilei scianca e un'altra serie di persone borgonovo vengono considerati razzisti xenofobi le loro case editrici non accettabili e quindi loro non possono andare al salone del libro di torino questa cosa è disgustosa in un paese normale tu li prenderesti queste persone e gli diresti senti il salone del libro te lo fai a casa tua te lo fai a casa tua perché non è questa la cultura perché la cultura semmai di partito era quella dell'einaudi comunista chiaro comunista sovietica non quella di quattro case editrici peraltro marginali che hanno marginali nei loro numeri che hanno un pensiero conservatore e che cosa c'entrano giù e giubilei col fascismo e razzismo lo devono spiegare il binto la gioia si cambiasse camicia quasi come la mia no piuttosto che pensare al fascismo degli altri la murgia ritratta oggi da perna sulla verità è come sempre un capolavoro di perna perché perna scrive divinamente e la pensa in maniera originale rispetto al pensiero comune comune scusate gerardo giuseppe e anna e giovanna vi vedo tutti quanti in in collegamento sia su instagram sua su facebook a entrambi a tutti voi vi faccio il saluto e vi dico che in po nel pomeriggio ci saranno tanti altri pezzi sul sito nicolaporro punto it noi abbiamo lunedì chi paga il salone del libro di torino nanni ne ho chiesto ieri la borgonzoni vedrete come mi risponde sul sito lunedì quarta repubblica martedì ricordatevi non perdetelo come sempre matrix in seconda serata e direi che per oggi è tutto e ci sentiamo più tardi ciao chiudiamo prima questo e poi